ciao a tutti allora oggi voglio andare a decorare questo cameo qui zoom ok questo cameo che ho fatto nello scopriamo le carcini che davvero mi ha esaltato un sacco e lo andremo a decorare eccolo qui con uno zenzi mini mini zenzi che ho fatto io col filmo eccolo qui e lo vado a mettere tipo qui dentro no però mi sembra un po troppo vicino ok però 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 voglio non voglio mettere dietro glitter non voglio mettere dietro sfondi un po normali ma voglio mettere questi le caramelline cosa che sono zuccherini caramelline voglio fare proprio lo sfondo di zuccherini riuscire a mettere anche gli zuccherini intorno magari in qualche buchino e metterci sopra lo zenzi questa è la mia idea ok quindi adesso dobbiamo portare la mia idea dobbiamo farla che paura allora per prima cosa mi sono messa i guanti prendiamo un fogliettino ho già preso tutto questo lo spostiamo un attimo se ci serve questo fogliettino che ormai ho le mani tutte appiccicate e mettiamo dentro un po di resina dentro nel fogliettino e ovviamente non ho la più parietà di quanto farne ma che strano proviamo così ok e adesso io devo andare ad aggiungere gli zuccherini dentro a questa resina qua quindi prendo gli zuccherini il mio cucchiaino magico e comincio a versarli dentro un pelo balordo ecco mi stanno già cadendo tutti addosso quindi prevedo un disastro anche in questo video ok adesso vediamo mi sa che sono un po pochini adesso però comunque adesso dobbiamo la mescolatina per non farli scappare via poi dovrebbero lasciare anche un po il colore spero che non venga proprio troppo ciufficata perché mi dispiacerebbe mettiamola ancora un po no sporcato cucchiaino no 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 non l'ho ancora incominciato già sto stozzando tutto ma porca miseria ok direi al massimo lo aggiungo dentro il cammino ora se riesco a prenderlo in mano magari track e track cominciamo così 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 e vado a spalmeggiare le mie baline sul cammino sarà la parte difficile falla un po abbastanza un po abbastanza dritta poi qua tutto giallo mi servono ancora baline le baline dell'amor ok ok qua sotto mi gusta mucho ok qua sopra ce ne sono un po pochine ma se io facessi tipo una roba del genere aspettatemi aspettatemi cioè raggiungo subito qui perché poi mi servono quelli lì sì ok poi adesso con i zuccherini che mi sono rimasti io voglio fare tipo come faccio io mettere i zuccherini nei buchini ci riesco forse ho parlato troppo in fretta dai bella ok ragazzi adesso io vado avanti a riempire i buchini di zuccherini poi mettiamo sopra zenzi allora eh c'è voluto un po' ma ce l'ho fatta eccolo qui poi tutto giallo con le mie poi dopo si è da meglio ok adesso dobbiamo mettere lo zenzi dentro io voglio metterlo tipo in basso vediamo un po' un po' più in alto ok e adesso devo schiacciarlo un po' in dentro ok vediamo bello 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 ok poi sistemiamo un po' i zuccherini ok bello mi piace e adesso metto ad asciugare e poi facciamo l'ultima parte ok l'ho appena tirato fuori dalla lampada e now devo coprirlo tutto con la resina UV zenzino piccolo zenzino devo fare una roba però abbastanza bombosa per fare restare zanzi sotto mi sa si 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 adesso lo sbombolo per bene e poi e poi e poi e poi it's finished forse ne so forse sto esagerando un pochito facciamo che ora per i nostri caos e sistemiamo un po' papaparo pipidipidi pipidipi pipidipidi vediamo un po' facendo così eh sì Adesso lo asciugo Perché se no non si asciuga più E poi mi sa che gli faccio un'altra passatina Perché Zenzi rimane Un po' fuori Sì Ok Allora alla fine ho deciso di lasciarlo così Bombato così che esce Zenzino Sì mi piace Così Così poi posso toccare Zenzino Uno Zenzino amoroso ma è bellissimo Mi piace tantissimo Peccato che ovviamente C'è una luce di cacca No vabbè è troppo bello Mi piace così se lo muovo fa tutte le sfumature Zenzi Ok basta lo adoro Mi piace davvero Tantissimo Così almeno Vedete sono fuori i zuccherini Farei anche Zenzi Mi piace tantissimo così E niente quindi voi Fatemi sapere che cosa ne pensate Di questa creazione Io vi ringrazio Ad aver guardato il mio video di mondo Un sacco di bacini Ciao 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 c'è Ciao c'è Ciao c'è Ciao c'è Ciao c'è Ciao c'è